il gommone smart per pescatori smart è il barracuda 580 di joker boat un gommone che è una macchina da guerra per chi ama uscire per battute di pesca una conduzione semplice facile e affidabile e tutti gli accessori e tutte le predisposizioni ovviamente personalizzabili per mettere portacanne per mettere accessori dedicati alla pesca partendo da prua troviamo due divani frontali una seduta a fronte marcia un divanetto sotto il gavone in cui stivare anche l'ancora e poi tanti gavoni alcuni con vasche estraibili per facilitarne il lavaggio come quello a centro prua che potremmo dedicare alle esche andando verso poppa la console centrale la seduta che può essere utilizzata anche come poggiareni e poi queste due planche laterali su cui è possibile installare dei portacanne andando ancora più a poppa via diventa una zona più tecnica riservata alla pesca a parte i portacanne opzionali che troviamo anche a poppa a centro barca c'è la vasca del vivo è una vasca ispezionabile con un riciclo d'acqua e anche sotto questa vasca troviamo altri gavoni altri spazi per stivare la propria attrezzatura la motorizzazione è fuori bordo ed è protetta da queste due plancette laterali in metroresina che proteggono il propulsore e soprattutto facilitano anche il la risalita in caso di bagno anche con grazie alla scaletta estraibile il prezzo parte da 29.500 euro più iva